45 giorni per completare i lavori e dare nuova vita al centro flipper. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, il delegato allo sport, Geppino Giacobbe, il dirigente a ramo, Michele Arbonio, hanno incontrato questa mattina i vertici delle fiamme oro per definire la convenzione che consentirà loro di gestire la struttura e trasformarla in un centro sportivo. Inclusione sociale, pratica sportiva ordinaria ed anche agonistica, sono questi gli scopi delle forze dell'ordine che, già in altre città, hanno sperimentato con grande successo questo percorso. Collaborare effettivamente con le amministrazioni comunali per raggiungere due scopi, riqualificare le strutture già esistenti ed avere a disposizione spazi ampi e professionali per svolgere le proprie attività sportive. Sono tantissimi i campioni in divisa, la vita militare infatti spesso diventa l'unica strada percorribile per chi vuole davvero arrivare al top nel proprio sport. L'intenzione, o meglio la speranza, è proprio quella di trovare anche qui ad Avellino il talento che possa trasformarsi nel campione del futuro. Resteranno fuori dall'accordo le strutture di Valle e Picarelli, che in una prima fase erano state coinvolte nel progetto iniziale, redatto dal commissario straordinario Giuseppe Priolo, ma che, come ammesso dal sindaco Festa, non sono risultati funzionali al progetto messo in piedi dalle Fiamme Oro. In ogni caso, i due impianti saranno dati in gestione a chiunque ne farà richiesta, come ogni altra struttura sportiva comunale.